Vincere, vincere Vincere, vincere Vincere, vincere Vincere, vincere Vincere, vincere Vincere, vincere 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 Se ci sono le critiche, le critiche che ho sottile, queste sono le critiche che ho sottile, perché basta un minuto che dedicano i giocatori a noi, ce ne andiamo a casa. Perciò io spero che questa intervista va in onda e mi sentite. Grazie Presidente. Scusate, è l'unica squadra in Italia che non può vedere gli allenamenti. La mancanza di qualcuno della società, che stanno? Perché Navoli viene in corso, tantissima gente che sta scontando queste cose, basta che qualcuno viene e ci dice quello che succede. Allora, ladies and gentlemen, so can we all go down the stairs? I need to get you off the hotel premises, I'm afraid. So if you can please make your way down the stairs, onto the footpath, I'm very much appreciated. Please do so, don't leave that. Sorry guys, we'll see, ragazzi. Ragazzi, vabbè. Ma faccio venire a meno Paolo, uno solo, a meno Paolo. Dai, Edo, Edoardo. Ok, allora sono i giocatori e hanno deciso. Ragazzi, questo è stato il figlio e il figlio del Presidente ha detto che i giocatori hanno deciso. E questo è il rispetto per noi di tutti. Andiamoci a mangiare. Penso, beh, a questo punto andiamo a mangiare, andiamoci a divertire. E vi dico sempre Forza Napoli, con... È la passione che mi fa dire sempre Forza Napoli. Al di là della maglia, di tutto. Non so più cosa... Non so più cosa... Perché mi prende delle pacque perché è troppa croco per me un'ora, ma non so. Mazzaggia. L'annaccia. Camillo! 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 Ci è tutto lì? Lo sai, lo sai. Luca, Luca, Luca! Chi è il più grave? Il tuo nome è grave? non è vero stai a fianco si, questo è il Brito come cazzo ne ha fatto entrato? andava a fare il Brito chi è che è entrato? Brito ora sei il Brito poi c'è una poca cosa ho fatto una foto 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 voglio un barco non ci sanno 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 la roba è non ci sanno Dico... Salvatore Salvatore! Sting! Borgal! No, no! What did you say? What is Die? I'm Hormone! Borgal! 70! Borgal! Borgal! A Krati! A Krati! A Krati! Nihijaja! Gargano! Gargano! E noi che fai? E noi che fai? E noi che fai? A te! A te! A te! A te! Ma Boshio! 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 Andrea! Andrea! Stai facendo le foto? Si ma non si vedono, è inutile B centimeters чip! B Yours! Bhos! F jako! Pnh! Garde enrollment! Realmente! Esatto! Si!!! No si!! B arraysas know when you hear this! Do you have a fan? Eee... Ci sono un po' di Sì, questo è il primo E' la tua prima Questa è la tua Questa è la tua Dio a voi 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 A voi Dio a voi E' la tua Iscriviti E te l'hai Sì, guarda Dio a voi E' la mia manzana Sì, non è Sì Ma questa è una A overe lì Non la fai su Sì Comunque la pizza Ma mazzare? Si Mazzare? Mazzare? Pustalupi Marco Marco Pustalupi Mazzare Pustalupi Pustalupi Mazzare Pustalupi Paweł ぜ exactly Pustalupi Mazzare profil Mazzare Jadja 12 Carlo, guarda qui vai Carlo vai 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 guarda 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 spaghetta 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 vai o ma se ma 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 n non ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti.